Cassandra ha fatto un'interpretazione... Chi è che mi chiama così? È un brava da parte anche di Vincenzo Bocciarelli. Grazie, Vincenzo. Grazie mille. Vuoi venire a complimentarti? Prego, so che ci tieni molto e che hai molto apprezzato la sua voce e anche i colori. No, come presidente di giuria, avendo condiviso con lei la votazione dei concorrenti, ci siamo confrontati un po' su quelle che sono state le nostre impressioni, giusto Cassandra? Assolutamente sì, infatti, ma anche molto giovani, oltre che molto bravi, ovviamente... Ecco, tu provieni appunto da un talent, quindi il tuo consiglio... Non è facile, tra l'altro, giudicare. Sai che significa stare anche dall'altra parte? Infatti, infatti, non è facile, però ecco, bisogna andare sempre avanti, anche se poi ci sono insomma delle porte chiuse, ma quello è in tutta la vita, in qualunque lavoro farai e quindi sempre coraggio, persistenza e bisogna essere tenaci in questo lavoro. Amore. Crede ci sembra rendersi mai. Sì, infatti.